San Valentino si avvicina e il resto del Carlino offre a tutte le coppie la possibilità di comunicare i propri pensieri d'amore. Un momento speciale per dire ti voglio bene a qualcuno che per noi è importante. Anche quest'anno potrete mandare gratuitamente un messaggio d'amore, di amicizia o di affetto a una persona cara e ci sarà una sorpresa in più. Ecco come fare. Su www.ilrestodelcarlino.it e anche su www.quotidiano.net c'è uno spazio speciale per lasciare i vostri messaggi. Basta cliccare nella casella Invia e Commento e il messaggio raggiunge la sua destinazione. Tutti i post saranno via via visibili e si potranno leggere in tempo reale. Resteranno online per diversi giorni. I messaggi più belli verranno poi pubblicati in occasione di San Valentino sulle pagine del resto del Carlino. Per uno dei partecipanti a questa iniziativa il San Valentino 2009 sarà veramente speciale. Tra tutti i messaggi arrivati entro il 12 febbraio ne verrà selezionato uno per la sua originalità. La coppia vincitrice riceverà un regalo esclusivo. Il percorso Aqua Relax priviene la spa del centro benessere Montriff del Royal del Calton di Bologna e una cena a lume di candela al ristorante neoclassico dello stesso Royal Hotel Calton.